mettiamo modalità aereo o l'amico allora metto modalità aereo così non si sente pipi 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 buonasera a tutti siamo qua con due super big giovanni giorgi lorenzo poli ciao ragazzi allora in questo momento voi siete in giornata di riposo no perché state facendo una trasmissione parecchio impegnativa che è the voice che tra l'altro vedo che sta andando anche molto bene che sta avendo dei notevoli numeri quindi bravi ho visto anche un po mi fa effetto gio vederti tutto vestito bene sei bellissimo devo dirti la verità lorenzo sono abituato a vederlo abbastanza camiciato e giaccato però te gio un po meno allora ragazzi oggi parliamo un po di sezione ritmica va bene e vorrei partire un pochino da proprio lavoro che state facendo questo lavoro di the voice che è un lavoro sicuramente molto impegnativo perché vi sta impegnando tantissimi giorni tanto per cominciare e poi ha dei ritmi che so che sono veramente tosti voi avete suonato insieme tantissime volte avete fatto tanti lavori di vari tipi ma non avete mai lavorato in televisione insieme lorenzo è un veterano pazzesco poi ne parliamo gio un po meno anche se è un veterano da altre parti quindi com'è gio questa esperienza della trasmissione te l'aspettavi così è troppo frenetica e rilassata com'è che sta funzionando innanzitutto con noi ci sono anche marco zanoni pancia oragonese c'è luca meneghello nicolo liva quindi musicisti pazzeschi amici soprattutto perché se un lavoro del genere lo fai con gli amici è veramente tutto più semplice quindi oltre a essere persone con cui ho già suonato in passato ritrovarmi in un contesto di lavoro è da molto agio poi per quanto riguarda l'asso e lì sopra di me si chiama lorenzo poli e lui è praticamente l'asso piglia tutto immagina il chirichetto che porta al vescovo capito il materiale per fare messa e lui fa messa è tutto più semplice nel senso che me l'aspettavo un po così ma è anche abbastanza semplice se insomma mi faccio bello con loro ecco qual è la cosa giù che ti sta dando più problemi se ce ne sono cioè qual è la cosa che veramente dici cavolo mi devo proprio sbattere voglio dire cos'è la quantità di pezzi il fatto che magari cambiate gli arrangiamenti com'è che funziona discutevamo con lorenzo l'altro giorno anche lui mi faceva notare che se hai il controllo di quello che hai nel dettaglio che hai sotto mano il materiale musicale quindi hai tempo per provare il pezzo più volte di confrontarti con l'autore di provare i volumi sul palco che sono diversi da quelli dello studio registrazione e diversi magari dalla sala prove allora hai il cento per cento sotto controllo tutto ma siccome queste variabili cambiano in continuazione dall'arrangiamento del pezzo che magari può subire delle variazioni non drastiche magari una volta che sei in televisione ma comunque a livello dinamico a livello di piccole stesure può cambiare anche il giorno prima o il giorno stesso i volumi sono diversi gli ascolti diversi e magari questo può aumentare il coefficiente di difficoltà per il resto di brani sono tantissimi da suonare quindi magari non c'è molto tempo per memorizzarli come vorresti tu quindi te li ascolti in macchina oppure fai una ripassata in sala prove se si può se no tieni le orecchie molto aperte ecco ok senti lorenzo tu invece hai fatto già un sacco di lavoro in televisione hai lavorato anche a san remo quindi una situazione veramente ad altissima tensione suppongo e che differenza c'è per esempio lavorare in una trasmissione del genere o lavorare in un sanremo dove hai più tempo dove magari il materiale rimane così fino all'ultimo giorno che differenze ci sono che difficoltà riscontri da una parte dall'altra dunque a sanremo ci sono delle cose che dal primo giorno sono così in realtà poi in diretta è uguale a come ci succede in questa trasmissione cioè che all'ultimo magari anche mentre stai suonando ti arrivano in cuffia delle indicazioni dalla dal direttore di turno insomma proprio mentre stai suonando anche alcune cose vengono comunicate questo anche a sanremo magari a sanremo succede più con gli ospiti con delle cose un attimino più improvvisate e quindi le dinamiche di questo aspetto sono identiche anche qui c'è tempo per provare dei brani altre cose fatte all'ultimo la grande differenza e devo dire che è la prima volta la prima volta in cui mi trovo in un contesto di questo tipo è che le dinamiche che ci sono lavorando con una band e di solito quando c'è la band in televisione comunque include almeno due chitarre due tastiere e i coristi anche tre chitarre delle volte per band diciamo di solito si intende quella che è la sezione ritmica giusto per puntualizzare quando si parla di orchestra è inclusa sono incluse anche altre sezioni quindi o la sezione dei fiati o la sezione degli archi o tutte e due come nel caso di sanremo trasmissioni simili a queste invece qui è realmente una band vuol dire basso chitarra batteria chitarra batteria pianoforte tastiere e con tra l'altro con quasi nulla di sequenza come invece magari si potrebbe pensare perché c'è il problema visivo quindi non è che in sequenza si possa mettere tutta la banda di giù e no perché cosa vuoi metti pa metti gli air to the fire poi non si vedono e oppure due chitarre cioè qualcosina si può mettere qualche piccolo ausilio ma ci siamo accorti che non non si poteva in realtà quindi è realmente un approccio da band e quindi vuol dire che anche la scrittura per esempio delle partiture non prevede un essere fiscali al cento per cento come invece è obbligatorio che sia rispettato quando c'è un organico un pochino più esteso perché sennò ci si pesterebbero i piedi uno con l'altro e si rischierebbe di avere degli incidenti pur essendo in mezzo a musicisti preparati ecco senti lorenzo a te piace più suonare voglio dire suonando quello che devi fare come a sanremo che ha tutto scritto non puoi cambiare più di tanto e se un po vincolato dal copione o ti piace suonare libero avere uno schema ma poi muoverti anche come ti piace insomma ecco sono due lavori differenti no se vogliamo ma a me piace suonare ti adatti o hai una preferenza in particolare no no la preferenza è di suonare poi qualsiasi cosa ci sia da suonare io sono happy quindi un modo è bello per un modo cioè andare a suonare è già festa per me veramente mi cambia tutto il sistema ormonale e di di le mie le difese immunitarie vanno alle stelle sto benissimo quando suono soprattutto con i musicisti stellari cioè voglio dire in questa in questa band veramente è una cosa incredibile perché uno almeno io mi lascio andare anche almeno se qualcuno ha potuto seguire le due puntate si sarà accorto che ci sono delle parti magari che a volte ho rispettato come sono originali ma altre volte si suona anche con le zampe libere e questo è bellissimo quindi in realtà una direzione musicale è una direzione musicale condivisa quella che avete o avete un direttore che vi dà comunque un imprinting certo certo assolutamente allora partendo da quella che è la direzione artistica della trasmissione che è in mano ad alex ullman e luca lamorgia che coordina questa cosa poi noi abbiamo un band leader che è ragonese pianista quindi diciamo che è lui che è il nostro deus ex machina è lui che alla fine dice quale tipo di taglio bisogna avere però puntualizzo velocemente il fatto che con pancio tutti noi suoniamo da vent'anni e abbiamo suonato delle cose molto spinte anche il progetto dei trust abbiamo fatto abbiamo fatto di tutto le cose più strane musicali le abbiamo fatte e quindi c'è un'intesa e una conoscenza reciproca vicendevole molto su cui ci basiamo molto per cui lui ce le dice ma non è che abbia necessità di scrivere ogni singola nota sempre può capitare come fa in certi brani magari abbiamo fatto un brano dei brani siccome in gara c'è anche questa cantante che è di matrice lirica diciamo e quindi ci sono delle cose anche armonicamente un pochino più complesse e un po' strutturate e quindi in quel caso scrive se no ci sono delle indicazioni e noi possiamo suonare cioè lui sa che ci possiamo fidare uno dell'altro quindi noi capiamo fino a dove possiamo spingerci e fino adesso almeno è una cosa che si è creata una dinamica nuova non avevo mai fatto trasmissioni in questa modalità ecco ok joe una domanda un po più batteristica nel momento in cui ti trovi a suonare un repertorio di questo tipo dove devi suonare un po di tutto per cercare la sonorità dal punto di vista proprio autentico visto che non hai tante sequenze come ti stai gestendo il suono stai usando l'elettronica che tipo di approccio hai vuoi avvicinarti all'originale o cerchi un suono che abbia un senso nel contesto dell'arrangiamento che viene proposto partendo da grandi linee ci sono le indicazioni a monte e degli autori che ti chiedono di rispettare la natura della canzone quindi come loro dicono sound alike fallo come la canzone questo intende sia l'arrangiamento che il suono quindi se stiamo affrontando come capitato non pezzo anni 80 di madonna dove praticamente di acustico c'è poco si ricercano dei campioni molto simili all'originale li carico sul campionatore e suono magari cassa rullante in quella in quello stile con quei suoni aggiungendo magari un charleston vero o due charleston vero io non sempre uno sopra e uno sotto per variare un po questo è quello che è ovviamente la parte alta di frequenze quindi piatti sono veri quindi diciamo che faccio 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 così in questi casi altrimenti mi viene in mente sempre pezzi anni 90 non so ma autori come morandi cotugno quindi suoni pieni suoni grossi allora ho pensato di impostare il set con con quel tipo di suono quindi impero sono le pelli remo trasparenti power stroke sulla cassa e diciamo il mio suono di base è quello che magari ho qua in studio con questo strumento lo strumento simile me lo sono fatto arrivare in trasmissione i piatti sono circa questi ma le pelli sono un pochettino più spesse più profonde le ho fermate un poco perché sia i rullanti che i tamburi non devono avere troppe risonanze sennò crei problemi al fonico quindi come dici tu il gaffa non troppo ma un pochino solulante e qualche piccolo mongella sui tamburi ne ho due due tom e due timpani quindi basta poco e ma gli strumenti ormai sono talmente buoni che in dieci minuti si accordano strumento molto bene quindi basta poco per fare per perfezionare il suono e di base è quello che tu hai descritto visto che siamo già in modalità domande in tema di quello di cui stiamo parlando ti faccio vedere lorenzo questa che è arrivata che ti chiede giovanni che effetti usi dal vivo se puoi descrivere anche tu un po il tuo setup no secondo me è interessante capire questo anche per l'approccio di dover fare una cosa dove dovete avere tante sonorità insomma cambia rispetto a quello che fai di solito in tour o è lo stesso setup all'incirca ma il mio setup è più o meno sempre quello lì quindi ho ristretto un pochino il parco bassi perché per adesso almeno a meno che non arrivi chiaramente qualche brano nel quale può servire il basso acustico o il fretless faccio tutto con un cinque corde e un quattro corde tutte due bassi passivi uno è un daryl jones cinque corde della lachland e l'altro è un pj quattro corde pj che tengo con le corde un po più vecchie in modo da avere i suoni pochino più di matrice vintage diciamo e come effetti uso solo il distorsore uso un sansamp per per alcuni tipi di distorsioni e la distorsione della testata che utilizzo l'amplificatore che è un gr bass la testata è la dual la dual 800 con la cassa aerotech quelle nuove in carbonio che però serve solo a me per avere un pochino di suono il suono che va in diretta è diciamo l'unione dei due canali della dual di questa testata qua che ha un canale pulito non distorsi gli metto sempre un po di distorsione e ho mai capitato di avere dentro un octaver in un brano che c'era nella prima puntata e che quello è il brano abbastanza snello dai così almeno tutti gli smanettoni di pedalini perché bassissi chitarristi jo dimmi no no finisci tu dopo dopo che hai detto dico la mia no perché stavo per passare sotto un'altra cosa che riguarda una domanda che riguarda le la strumentazione dimmi la tua così poi la metto in solo la mia la mia precisazione perché se si parla di suono infatti a lui hanno fatto questa domanda ma in realtà lorenzo adesso ha elencato le attrezzature cioè quelle che gli servono per il lavoro come per dire io uso una batteria con urlanti tamburi ma la cosa sconvolgente dal punto di vista batteristico e da musicista in generale e sentire che lorenzo si approccia a qualsiasi brano con una gamma infinita di suoni che gli vengono dalle sue ditina d'oro non dal fatto che così in quel momento il compressore o il distorsore quello è come dire lo standard come dire mi siedo e suono ma tutto il resto lui lo fa usando magari il plettro quando è giusto suonando al ponte quando il pezzo lo richiede si avvicina oppure al manico grattando le corde magari con le unghie quando stico a tutte cose che io sento in cuffia che che fanno bene al pezzo che sono praticamente pertinenti in ogni secondo di ore e ore e ore di musica e che non esulano dal dal fatto di avere l'attrezzatura e questa è la grandissima differenza no quando c'è uno come lui e poi non sono tanti come lui ovviamente che 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 suonano vicino a te sono cose che puoi apprezzare durante tanti giorni di lavoro ma io fortunatamente lo apprezzo da 20 anni perché guarda questa allora giorgio si è fatto la domanda e si è anche dato la risposta dice una domanda per giovanni qual è il tuo bassista preferito e perché proprio lorenzo poli quindi suppongo che voglia dire che lo sappia già sì in parte comprende la risposta comprende questo ma ci sono dei bassisti incredibili in giro e che hanno questo tipo di qualità quando c'è questo tipo di di approccio così sensibile al pezzo alla musica in generale cioè non serve veramente che dici niente a queste persone no e allora io fossi un bassista mi appassionerei a questo grado di di interpretazione della musica perché sì che puoi avere lo strumento che ma poi dopo se non c'è non sai armonizzare le tue doti dentro qualcos'altro e sei fregato capito mi ricordo questo bassista che si chiama lille mart che suonava con zaminol quando è venuto a fare delle date con noi e non aveva il basso ha detto come sei venuto a suonare senza il basso ma no ma portami da un negozio siamo andati a milano dalla key music e ha comprato un basso da 30 euro rosa 30 euro rosa con praticamente i fret che erano talmente scrausi che suonare tagliavi le dita l'ha regolato tre minuti e la sera aveva il suono dei dischi ma perché ha una un margine mostruoso da cui attingere capito e lorenzo è così può suonare qualsiasi genere perché ha un margine incredibile di esperienza basta ma voi che avete suonato insieme in tanti contesti però per quelli che conosco io sono sempre stati contesti abbastanza funk o fusion come ti trovi lorenzo suonare con giovanni invece la musica pop perché lo sentiamo un po meno no suonare questo genere musica lo sentiamo un po più sempre con i superpoteri di solito no è vero in questo caso è molto più schiscio è molto più tranquillo come ti stai trovando a talmente tanto margine è un bel suono che non devo dire nulla no se non che io gli faccio un po da diavoletto perché ogni tanto mi giro e lo provoco perché ma sì perché io ogni tanto voglio sentire i superpoteri allora ogni tanto lo stuzzico un po perché è bello no anche suonare tutto a modino tutto a posto eccetera però adesso non si possono dire le parolacce però diciamo che se uno ce le ha perché no dove si può chiaramente qui mi sento anche libero di stuzzicarlo un po a lasciare andare le zampe perché siamo in pochissimi a suonare e perché comunque c'è quella tolleranza di non essere sempre legatissimi a una parte e so che quando esce da quello che è la parte stabilita fa sempre delle cose mamma mia che non riesco neanche a immaginarmele prima che le faccia e quindi è bello è tutto molto vitale mi piace quindi lo stuzzico un po ma quando decide anche di rimanere normale che gli devi dire qua andy vi fa i complimenti per l'arrangiamento di torneremo ancora dibattiato non semplice per una band senza l'orchestra non l'ho sentito ragazzi per dire la verità non ho ancora sentito tutto che acuta osservazione è stato un orecchio fino lì ci abbiamo perso davvero un po di tempo per capire come venirne fuori per non cercare di fare la brutta copia quindi apprezziamo questa 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 diciamo questa considerazione che ha fatto non mi ricordo il nome andy che ho visto perché e giro pari patta questa questa questo apprezzamento a pancio ragonesi e marco zanoni e perché l'ingrato compito ce l'hanno avuto loro quello che abbiamo fatto insieme è stato tanto cercare di 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 capire come fosse la scrittura perché è un brano molto libero quindi insomma senti ti passo sto messaggio un attimo perché voglio dire una cosa lorenzo qua nicola dice ricordo lorenzo poi quando suonava con ruggeri grandissima e ci hai suonato un botto però grazie non abbiamo ancora citato il nano anche se adesso c'è lorenzo non abbiamo citato il nano che ha suonato con te tantissimi anni siete stati sezione ritmiche tantissimi progetti quindi marco nano orsi citiamolo lo inviterò adesso a fare qualcosa con grande gioia con grande gioia è uno dei batteristi preferiti sì sì allora simone dice qual è il modo migliore per sviluppare il tipo di approccio di cui parli giovanni simone faccela un po più precisa la domanda che ti rispondiamo più precisi dai ok vediamo se c'è qualche altra domanda subito così allora sentiamo questa secondo te giovanni qual è il tuo punto forte poi lo chiediamo anche a lorenzo e poi oltre al look adesso perché tendo a imparare velocemente quindi anche da da uno sbaglio da una situazione di difficoltà cerco subito di rimboccarmi le maniche di trarre esperienza quindi non questo cerco di essere avere le orecchie molto aperte di e di togliermi subito dalle difficoltà e per te lorenzo il tuo punto forte quale pensi che sia di giovanni no il tuo il tuo il mio riferito ma forse il fatto di riuscire a trasferir sullo strumento il mio carattere forse il mio temperamento e non è una cosa facilissima generalmente sono uno sempre possibilista difficilmente ostacolo l'andamento delle cose non è un merito è è una cosa che non ci nasce in un modo o nell'altro che non vuol dire neanche suonare bene o suonare male però diciamo che per suonare insieme agli altri mi rendo conto che delle volte può essere una cosa che possa snellire la giornata essere possibilisti positivi anche nella collaborazione invece di magari di faccio un esempio mi viene un'intuizione musicale che dentro di me magari è anche interessante se vedo che il brano sta prendendo un'altra piega lascio stare ma magari dentro di me dico no no è giusto quello che c'è già io invece non mi costa nessuna fatica una volta sì non è che quando avevo vent'anni con gli ormoni a 100.000 cavolavo anche alzavo anche la voce poi ti sei placato insomma ma sì perché comunque mi sono accorto che non serve niente aver ragione nella musica non è di nessuno la ragione quindi sia cioè è bello suonare e arrivare in fondo a un progetto unito è solamente se da parte di tutti c'è questo aspetto qua dove ognuno diventa collaborativo con gli altri allora la band prende un suono se ci si impunta si può essere anche i più bravi del mondo ma la band suona male infatti ci sono esempi di band apparentemente scrause tecnicamente che hanno un ensemble allucinante che ti spacca proprio le ossa ma parlando di sezione ritmica sia in questa situazione ma anche in altre in cui avete lavorato su che cosa cercate di fare più attenzione intanto vi chiedo se avete il tempo di proprio dedicare a voi due i dettagli oppure siete talmente già rodati e preparati che non c'è neanche bisogno di star troppo a discutere e poi la seconda domanda è come come vi trovate se dovete affiatare invece una sezione ritmica un bassista un batterista con cui non avete suonato o vi capita di suonare ma magari sentite che non è propriamente la vostra storia se vi è capitato e come vi incontrate per riuscire a far girare bene la musica ho solo capito l'ultima parte parti dalla seconda parte la prima ti chiedevo se avete curato dei dettagli in particolare se avete il tempo di farlo o se siete già rodati abbastanza da poter andare via tranquilli allora mettiamola così appena arriva il pezzo da studiare in questa situazione parli no? della trasmissione sì 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 in questa situazione appena arriva il pezzo da studiare lo si tira giù e si cerca di comune accordo di andare almeno iniziare e finire insieme dopodiché nella seconda passata si mettono appunto i dettagli ma sentendoli in cuffia mentre già stai registrando perché prima il lavoro è in studio di registrazione dove tu realizzi tutte le parti musicali da mandare concorrenti che si eserciteranno dopodiché in tv l'hai suonato già una volta in studio e quindi cerchi di trovare la quadra a livello di suono e di portamento e ovviamente cambiano i volumi e gli ascolti quindi cerchi di dargli l'intensità meno assettica da studio di registrazione e ovviamente già in fase di registrazione se magari un pezzo datato ha bisogno di essere un attimino svecchiato lo si suona un po' più moderno non è necessario tornarlo in stile come magari accadeva quando lo hanno registrato 40 anni fa a meno che non ti arrivi un'indicazione dove ti chiedono fallo esattamente così però come nel caso pochi giorni fa di un brano come dire napoletano Gigi D'Alessio l'ha stravolto completamente devo dire con gran profitto perché la versione che suonavamo era talmente antica da renderlo veramente pericoloso visto che era pieno di accelerati, richiami, corone invece gli abbiamo dato un'impronta sì che derivava dalla tradizione napoletana però suonato scusa se ti interrompo ma Gigi D'Alessio ragazzi che a volte viene preso in giro sai tutti si sfottò per la sua musica ma è uno che la musica la sa e come ha la grande è molto bravo è un grande musicista davvero e col fatto che faccia scusa GB sono partito prima vai vai e ti ho rubato il pallone vai col fatto che lui il punto è questo qui secondo me quando uno diventa un personaggio pubblico la cosa che arriva di più chiaramente è magari l'aspetto più mediatico quindi io non sono mai andato sui giornali anche che ne so delle chiacchierine ma intanto ha un diploma in pianoforte ha un orecchio allucinante e poi soprattutto ha molta cultura musicale molto gusto molto senso pratico è un bellissimo atteggiamento nel lavoro propositivo non invasivo cioè lui vuole che ci sia cioè si capisce che gli fa piacere se uno suona libero però quando ha le idee chiare ha un bellissimo modo per farti capire come vorrebbe che il pezzo che piega apprendesse insomma è veramente un piacere lavorare con D'Alessio no spezzo una lancia perché a me piace proprio poi la sua musica quindi alla faccia ci sono quelli che scrivono sempre le cose no no in conservatorio sono due pezzi suoi nel programma se può servire ecco come gestite l'ansia da palcoscenico? beh Lorenzo tu che cioè se arrivi da Sanremo penso che più di quell'ansia là non so cosa ti possa capitare no no ce l'ho sempre ce l'ho sempre dipende dai giorni guarda non ho visto il nome scusami Domenico te lo faccio rivedere scusami si Domenico Domenico ciao Domenico dipende dalle volte dipende come ci arrivo a volte magari arrivo al lavoro un po' più stanco a volte un po' più riposato a volte un po' più soddisfatto a volte mi porto magari dei problemi personali sul lavoro e le mie reazioni non sono sempre le stesse a volte sono molto teso altre volte divento un po' spavaldo quindi non è che abbia proprio un modo per gestirla ecco non la gestisco quando ce l'ho probabilmente ho un po' di margine nelle mani dettato un po' dall'esperienza un pochino dalla tecnica non intesa come virtuosismo ma come conoscenza dello strumento e degli stili quello sì che mi permette di cadere lo stesso in piedi ma l'ansia penso che è normale mi accompagnerà tutta la vita come Poli tutti quanti siamo in apprensione quando si avvicina al momento in cui si accende la luce rossa 3 2 1 in cucca e non puoi sbagliare niente perché hai 6 telecamere puntate e quindi sai che se sbagli quella cosa ci fai la figura di quello che sta sbagliando una roba che magari da casa sembra semplice fare ma una cosa è essere qua quando sei in saletta tranquillo per i fatti tuoi è un'altra roba è portare anche nella semplicità della musica che poi viene vista da migliori di persone ci pensi a quel fatto però posso dire che innanzitutto non parlerei di ansia ma di bellezza di qualcosa che ti rende vivo in questo periodo che già è allucinante quindi io mi sento miracolato che suono con i miei amici e sto vivendo di una cosa buona bella e che è la musica quindi alla fine penso che è talmente tanto bello poter fare questa cosa che l'ansia io la canalizzo in elettricità mi sento elettrico perché sto andando a fare qualcosa che è bello che ha sempre fatto parte di me da quando ho memoria e quando sta per diventare eccessiva mi metto un limite capito penso vabbè le robe le abbiamo provate anche se poco ho conoscenza di quello che sto facendo male non andrà di sicuro poi comunque ho poli davanti basta che guardo la sua spalla sinistra e il rullante va a posto guardo la destra e la cassa va stima al basso che sia parte sentire che in cuffia hai dei suoni pazzeschi specialmente basso ai strumenti che accompagnano chitarra tutti perfetti ti avvantaggia molto perché ti senti più sicuro sono gli interventi esterni che tendono a darti qualche piccola distrazione magari il concorrente indeciso o l'arrangiamento che viene cambiato all'ultimo o qualcuno in cuffia che ti dice ok band cambiate questo mentre stai suonando hai registrato una puntata anzi suonando live quindi è un problema che devi tenere sotto controllo però fa parte del gioco poi figurati poli può andare avanti fino a dopo domani a elencarti cose del genere ma Lorenzo io lo so perché lui è un mio concittadino lo conosco da quando sono ragazzino insomma conosco i suoi lavori le sue doti perché quando era io ero un pischello lui già aveva fatto San Siro Lorenzo come tanti musicisti di una certa generazione ha fatto anche gli anni a suonare liscio ha fatto una gavetta ha fatto mi ricordo benissimo proprio col nano suonavi allora Simone chiede può convenire ancora a suonare liscio ci può essere ancora la possibilità di trovare un'orchestra serie con cui suonare seriamente fare gavetta come te spiega anche che cosa rappresentava in quegli anni per te fare liscio cosa ti ha servito perché anche il liscio sai visto adesso se uno nasce oggi vede l'iscio di oggi insomma non è esattamente la stessa cosa senza entrare nel dettaglio è ruvido ora non so se tu sei ancora voglio dire informato su sì sì intanto faccio ancora qualcosa faccio ancora qualcosa si hai fatto anche i rischi insomma hai fatto hai fatto un po' i dischi li faccio ancora conviene sì però ecco va fatta la premessa per la domanda è giusta quella che ha fatto perché è una realtà non prendiamo in considerazione quest'anno non calcoliamolo è una realtà anche se poi ripartirà insomma sicuramente adesso è tutto fermo quindi anche l'heavy metal per cui non è un discorso di genere però faccio questo piccolo distingo di quello che era liscio una volta perché c'erano tanti brani strumentali prima e dovevi per forza far ballare adesso vanno di moda un po' i balli di gruppo per quel poco che vedo e sono quasi tutti programmati comunque sono le ritmiche perché hanno il suono della Ligalli il suono della Cumbia il suono cioè sti balli qua molte basi i solisti suonano dal vivo ma molte basi a parte le chitarre eccetera spesso le ritmiche sono finte perché è il genere che le chiama intendiamoci non è questione di di cioè così come negli anni 80 si esatto cioè è un genere così ecco cosa succede che quando dovevi far ballare il ballerino tutta la sera cioè dovevi imparare senza il metronomo cioè dovevi comunque imparare a suonare per 4-5 ore andando a tempo cioè essendo fluido che non vuol dire essere sul metronomo vuol dire avere un incedere del tempo naturale e costante che segua bene il canto così come c'è nella musica pop o nel rock dove c'è un'oscillazione sempre nella musica è normale che ci sia quindi lì aveva le sue dinamiche e riuscire a gestirle 25 serie al mese per 4-5 ore quindi impari non impari perché non è che nessuno mi ha detto fai attenzione a queste cose si suona con quelli più grandi di te e generalmente almeno per me è andata così per moltissimi di noi delle nostre terre è andata così che ti tramandavano questa attitudine solo basata sulla pratica a forza di suonare suonare quindi che convenga la risposta è sì è brutto il problema è trovare un'orchestra adesso che faccia la musica tradizionale devi fare 4 ore tu a tenere il tempo non appoggiato a un metronomo infatti purtroppo a volte si chiede se uno sa suonare sul click ma è facile suonare sul click è difficile suonare senza il click dove uno deve avere lui il timing e la capacità di condividere con gli equilibri di timing degli altri della band questo è più difficile e non c'è scuola che tenga devi suonare molto suona 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 e piano piano trovi un equilibrio quindi credo che ci siano ancora delle orchestre che facciano questa cosa qua ma sono sempre meno però per quello che vedo io metto una domanda che è chiaramente una domanda un po' generica se vogliamo Eric probabilmente un ragazzo giovane chiede come si fa a diventare turnista entrare nel giro scalzare certi mostri sacri tu sei uno di quelli Lorenzo io sono solo brutto come mostro faccio questa domanda perché ci voglio girare un attimo intorno e chiedervi e chiedere magari in particolare a te se esiste ancora in realtà questo lavoro perché l'ho chiesto a un po' di musicisti e non so Cesare Chiodo mi ha detto questo lavoro non è proprio non si può più chiamare così se così vogliamo dire no? vent'anni fa trent'anni fa o andando indietro sempre di più era un lavoro faceva un tour di 150 date insomma si sa come andavano queste cose adesso è molto diminuita la questione quindi a un ragazzo come Eric tu li consiglieresti voi li consigliereste di formarsi con l'obiettivo di diventare un turnista o semplicemente di formarsi e poi semmai capire quale opportunità possono capitare perché magari Eric potrebbe anche non fare il turnista ma lavorare comunque con la musica facendo delle altre cose perché oggi credo che si possa arrivare ci siano le opportunità per arrivare a un pubblico sempre più ampio naturalmente cercando di avere una mentalità internazionale cosa ne pensate da questo punto di vista? oggi per esempio stavo ascoltando un nuovo disco di Yusuf Days con Rocco Palladino che è un live in trio appena uscito uscito in questi giorni dico ragazzi questi non fanno musica commerciale ma proprio per niente però stanno spaccando sono ovunque non credo che vedremo magari si però il batterista non lo vedremo suonare in un tour pop sicuro come loro quindi dico datemi il vostro punto di vista Gio tu cosa ne pensi a un ragazzo giovane visto che anche insegna ai tanti ragazzi che tipo di formazione e di consigli di avere l'ho fatta un po' lunga ma perché era importante spiegare questa cosa bene non guarderei come finalità il diventare una cosa o l'altra guarderei come dal principio cosa ti fa piacere per fare perché lo fai come iniziato e mantenere una mentalità di apertura verso quello che che arriva perché se tu ti diverti e studi con grandissima passione inevitabilmente accadranno delle cose che ti porteranno a affrontare tanti percorsi e magari soprattutto molto diversi da quelli che hai programmato di fare all'inizio perché io stesso pensavo di fare delle cose e me ne sono capitate altre o comunque altre ancora quando mi trovavo in un altro contesto anche questo lavoro che stiamo facendo arriva dall'avere affrontato sia con Lorenzo che con altre persone nei generi di musica completamente differenti dove allo stesso tempo comunque era necessario un rigore di intesa e di ascolti comuni e di passione per suonare certe cose a un livello molto alto e tutto ti porta poi dopo a non dico a scelte ma a poter partecipare insomma non penserei adesso devo fare questa cosa perché tra vent'anni ne farò quest'altra cosa capisci? non so se ho reso l'idea tu parli proprio di preparazione complessiva io parli di preparazione complessiva perché se studi qualcosa con grande passione di determinazione è preparato a un ventaglio di possibilità che possono essere sia quella di poter suonare il funk il pop ma anche il jazz io mi sono subito appassionato da 15 anni al jazz quindi ti dico se io suono in trio mi diverto in trio jazz col piano acustico senza spie mi diverto ugualmente come se suono funk o pop con gente come Lorenzo è una questione di frequentazione mi capita meno spesso di suonare le cose che magari sto suonando adesso ma ho sempre studiato per esempio da batterista col metronomo da quando ho memoria e ho sempre cercato di cuore il suono specialmente se lo registro la batteria è qua sempre microfonata come quando ho iniziato a 9-10 anni con il classico 57 o la radolina della nonna quindi ho sempre messo molta attenzione in questo tipo di particolari e penso che sia una parte che poi sono tornati certo rimetto sotto la domanda così chi non l'ha sentita non l'ha vista la legge ora Lorenzo invece tu che cosa le dici a Eric in tutto questo contesto di cui ho fatto l'ampia sintesi prima certo intanto ciao Eric condivido abbastanza quello che dice Giovanni uno diventa adesso tanto si dice turnista perché perché una volta le registrazioni erano andavano a turni di tre ore per questo è rimasto il termine turnista di fatto adesso ha un'accezione un po' più estesa vuol dire che non hai un tuo progetto e suoni con chi ti chiama quindi perché questo succeda intanto bisogna essere compatibili con più committenti se vuoi suonare con tanta gente devi sapere suonare anche tante cose se vuoi fare il conto terzista diciamo però secondo me non deve rimanere al centro del progetto questa cosa perché uno non ci riuscirà mai cioè dice se voglio diventare quello che suona con tutti cosa faccio non posso mica passare la vita a studiare la roba di tutti devo cercare di essere in forma sullo strumento e poi viene da sé che qualcuno ti chiami per lavorare viene proprio in modo molto naturale quindi secondo me per riuscire in questo intento se per Eric è uno degli obiettivi l'invito potrebbe essere di sviluppare molta conoscenza musicale molti generi di essere sempre bello curioso di cercare anche di apprendere i linguaggi non so devi essere in grado di suonare in stile ti piacciono gli Aerosmith tirati giù un po' di dischi cerca di emulare il tocco e avere anche un ventaglio di suoni un pochino di suoni con le mani intendo con lo strumento non di effetti che tu sei in grado di gestire di riproporre poi verrà da sé che intanto ti diverti a imparare tanti linguaggi diversi e poi quando maturi è come un po' se tu trasmettessi anche sicurezza c'è fiducia scusami nei confronti di qualcuno che cerca un musicista dice identifico in quello lì quello che puoi fare al caso mio dove c'è modo devi tirare fuori la tua personalità però ecco non devi fare il midify perché di midify difficilmente uno viene chiamato perché esegui esattamente comunque devi avere un po' di personalità e l'acquisisci a forza di studiare di suonare poi non è che ci sia proprio più quel mesticello i turni di tre ore non ci sono da decenni e decenni si è mantenuto questa cosa ma li chiamerei più collaborazioni Marcus Miller è un artista ma ha suonato in infinità di dischi pop bellissimi da Whitney Houston agli iscritti politti cioè dischi insospettabili eppure era già Marcus Miller era già lui aveva già prodotto Miles Davis quando ha fatto questi dischi faccio per dire ragazzi scusatevi devo mettere in devo mettere sotto Bicio Leo che vi saluta ha sparato che un bella ma c'è qualcuno che sta eccolo qua Bicio c'è qualcuno che ha ripostato il proprio messaggio tipo 155 volte quindi sto vedendo un solo messaggio che mi scorre continuamente c'è qualcuno anche che lo apostrofa salutiamo il nostro Bicio Leo che è anche il nostro caporchestra nel suo nuovo disco abbiamo suonato entrambi non insieme devo dire purtroppo io ho suonato con Bicio da ragazzo e ho un amore per lui non l'ho mai dimenticato Bicio lo condivido bravo lo condivido andiamo con un po' di domande tecniche ragazzi era importante chiarire questo fatto della domanda di prima perché molti ragazzi soprattutto i giovani o sono un po' sfiduciati a parte il momento che è quello che è ma facciamo finta che questo momento stia già cioè non parliamone proprio ma che magari non hanno ben chiaro come funziona l'attività del musicista in Italia cioè se si prendono come riferimenti i grandi nomi della musica italiana quelli che hanno veramente fatto i dischi anni 80 anni 90 che alcuni dei quali ho anche intervistato anche loro stessi dicono che è proprio cambiata quindi sarebbe interessante stimolare i ragazzi cercando di farli capire che obiettivi avere in che direzione andare o come è proprio cambiato il mestiere per essere consapevoli nel momento in cui si fanno delle scelte nel momento in cui si va a studiare con un insegnante o si decide di andare via dall'Italia o via dalla propria città che evidentemente sembra un'esigenza sempre maggiore per avere opportunità questo è quello che io sto a quello che mi dicono mi dicono nelle interviste tu non sei d'accordo Lorenzo su questo? dimmi dimmi parzialmente l'ho toccata con le mie mani intanto questa cosa ci vuole di base la conoscenza dello strumento la tecnica la conoscenza della musica questi si fanno a casa da soli ti prendi un insegnante di musica qualsiasi preparato chiaramente cioè devi sempre scrivere leggere riconoscere gli accordi devi saperi riconoscere tutti gli accordi anche le estensioni non puoi suonare se non riconosci un accordo se è la quinta eccedente o se ce l'ha giusta devi saperlo come cosa accompagni quindi questa cosa qui si fa da soli quindi prima di tutto bisogna non voglio essere estremo però mi rivolgo a chi magari a volte cerca prima un altro percorso bisogna conoscere lo strumento c'è la scorciatoia intendi? eh sì non c'è la scorciatoia può capitare ma prendi dei pali poi la musica base non sono mica Schoenberg gli accordi le armonizzazioni principali le cadenze principali bisogna allenare l'orecchio la tecnica quotidiana e cercare di suonare con più gente possibile e già passano degli anni ma infatti io ho citato questa cosa della della posizione geografica per così dire perché parlo proprio di quei casi dove magari i ragazzi non hanno propriamente un accesso comodo alle scuole agli insegnanti sai ci sono posti in Italia magari tu abiti in Sardegna o in un paesino della Calabria non è facile magari muoversi e infatti la dimostrazione è che tanti musicisti si spostano quelli del sud vanno a studiare a Roma o sono andati a studiare a Roma eccetera eccetera perché c'è un circuito di opportunità chiaramente tu non abiti a Milano come abita Giovanni lavori perché sei tu però non abiti in una caverna hai capito quello che intendevo che magari anche la vicinanza con i posti strategici può essere più vantaggiosa ecco questo era il mio punto di vista non dico che se vai a vivere a Milano lavorerai è giusto ma bisogna arrivarci già con la cassetta attrezzi piena cioè quindi già con la conoscenza se no si rischia di buttarvi anche un po' di soldi secondo me perché costa molto vivere in questi posti dopo chiaramente quando ti senti di avere una buona base cioè non bisogna diventare numero uno al mondo però avere dei buoni strumenti lì è consigliatissimo andare in un posto dove ci sia una community con cui poter avviare nuove collaborazioni quello sì infatti io vorrei rimandare all'intervista che ti ho fatto poi la metto nei link dove hai parlato a lungo anche dell'aspetto dello studio del tuo punto di vista sugli insegnanti sui conservatori secondo me è stata la parte una delle interviste probabilmente l'intervista in cui viene spiegato meglio questo aspetto didattico dell'importanza di fare i compiti a casa di l'approccio al modo di studiare alle ore da dedicare allo studio al tipo di motivazione è stata un'intervista bellissima quindi te la mi fa piacere Giovanni è un altro come te che ha fatto un certo tipo di percorso quasi la direi chiamerei proprio una missione perché io noto questo i grandi musicisti non fanno i musicisti fanno una missione vera e propria quella della musica non so se tu la vedi così Gio è una questione di impegno poi a me non pesa tutto lì mi alzo penso a quello prima di dormire penso a che bello quello che ho fatto e come posso migliorarlo e fare meglio con che musicisti lavorare dai quali imparare e cosa progettare sono sempre un lavoro in testa vi faccio qualche domanda tecnica che abbiamo ancora un quarto d'ora più o meno diamo un po' sul tecnico dai che così i musicisti sono contenti perché Giovanni usi un rullante così secco in trasmissione non puoi ammorbidirlo un po' ne ho due uno molto molle e uno più tirato quindi quindi hai il main snare più tirato e a sinistra un po' più ciccione mi chiedevano le domande che modelli sono sono due Yamaha Recording Custom in alluminio uno da 6 e Recording Custom ultimo modello come dire la serie 9000 però dedicata ai rullanti in alluminio molto leggeri un 6,5 e un 5,5 il 6,5 ha una pelle spessa e anche una sordina dentro della Remo e il 5,5 invece pulito con il suono tirato come sottolinea cioè il suono più tirato come sottolinea il ragazzo mentre la batteria è una Yamaha Phoenix di modello di punta della Yamaha 10, 12, 14, 16 cassa da 22 così ho letto sui tuoi social ci sono tutte le le foto si può andare a vedere perché ho visto che hai postato tante belle cose per cui semmai uno viene a vedere lì ci sono tutti i dettagli anche del setup credo anche del tuo Lorenzo c'è una domanda per te di Mr. Alconico che chiede ti fa i complimenti per una masterclass a Napoli e dice se quando consegni le tracce che registri a casa mandi il segnale di AI e AMP o solo di AI quindi immagino per il lavoro dei dischi lavori molto da casa o vai vabbè adesso immagino molto meno però diciamo gli ultimi 5 anni quante cose hai fatto a casa quante cose hai fatto in studio in percentuale ma intanto ciao non so come chiamarlo è perché su YouTube hanno tutti dei nickname abbastanza ciao mister allora non è una cosa che propongo mai devo dire quella di fare da casa però se non c'è alternativa che mi viene chiesto sono attrezzato per poterlo fare perché non mi piace lavorare da solo principalmente per questo il valore grandissimo di quando si lavora in studio è proprio la presenza delle persone con cui chiedi fai con Gibson fai con Fender fai con il Plettro fai con l'Amplay fai in diretta fai più staccato eccetera cioè il dialogo il valore umano è quello che tiene il disco bene sui binari secondo me la combinazione di più musicisti il produttore il fonico che ne so tutte le figure presenti comunque per rispondere alla sua domanda nei lavori da casa li faccio esattamente come in giro quindi mando sempre il segnale dell'ADI e eventualmente un secondo o anche un terzo e quarto segnale a seconda del tipo di suono quindi se non c'è l'amplificatore generalmente ne mando ne mando due comunque per evitare di lavorare troppo sul segnale principale intanto se serve cambiare proprio il suono cambio basso prendo un altro strumento prendo che ne so cambio proprio il tipo di basso il tipo di corde quindi cambia proprio la matrice all'origine e invece di equalizzare di pistolare il segnale principale lo doppio quindi lo divido e aggiungo al suono dello strumento una matrice differente quindi generalmente quella della distorsione da pochissimo a molto quindi mando minimo due tracce a meno che non sia una cosa molto basic classica come potrebbe essere un disco con l'orchestra come ho fatto recentemente per un tenore che era pop però comunque era in genere pop con l'orchestra in stile bocelli diciamo ecco quindi lì ho mandato solo un segnale il basso nudo e crudo della D.I. comunque siete fortunati voi bassisti perché Gio invece quando tu mandi le tracce quante ne mandi via e in sintesi anche tu come lavori lavori flat mandi via la batteria un po' equalizzata un po' compressa o dipende da con chi ti interfacci no io faccio di solito mando le tracce separate sono 13 barra 14 compreso il microfono della stanza poi tutti i direzionali flat senza equalizzazione ma io registro comunque senza equalizzazione in ogni caso quindi sono abituato soltanto a fare il gain che richiede quel canale quindi in generale registro cercando di accordare molto bene lo strumento e non metto neanche l'effetto quando do le tracce poi mi permetto magari di dare un premix mio che chiamo pronto ascolto quindi una traccia mp3 ma anche mp3 dove magari aggiungo un ambiente su tutta la batteria tranne cassa e elementi più diretti giusto per far capire com'è l'idea generale del brano per il resto no flat no compressioni no reverberi neanche il pump tutto mono poi ognuno si usisce la sua la sua mix c'è un'altra domanda sull'aspetto didattica studio eccetera in che percentuale chiede Tom per essere un ottimo musicista conta la costanza nello studio rispetto alle doti innate che domanda Lorenzo questa è tua questa è tua questa è tua ciao Tom bene sentite aspetta un attimo così almeno salutiamo questo She's Kebab Pops perché ha mandato 197 messaggi grazie ti salutiamo ok che vi stai tasando tutta la chat ti prego ok torniamo alla domanda di prima vai allora la costanza conta quasi di più cioè le doti ci vogliono delle doti di base ma la costanza può superare molto questo un po' come nello sport uno magari cioè può avere tutto il talento del mondo ma se non si allena tantissimo e se non impara a gestire la testa l'attitudine quindi l'atteggiamento non se ne fa niente dei suoi doti è così molto nella musica ho assistito anche qualche masterclass e tantissimi musicisti insospettabili sostengono di aver superato certe barriere solamente con la costanza quindi e poi non bisogna mica fare la gara con nessuno la costanza deve essere alla base solo per il fatto che ci permette di abbattere delle barriere nostre ci permette di constatare un miglioramento personale che ci aiuta a vivere meglio adesso è un po' esteso un po' filosofico detto così però alla base c'è questo è così dobbiamo andare a letto felici del nostro lavoro non di aver vinto un premio quindi la costanza è importante perché poi è anche un bell'alibi per stare al mondo oggi ho suonato tutto il giorno uno hai passato una giornata a suonare due e sei migliorato io so che tu quando sono venuto a intervistarti so che era ovviamente pre-covid stavi studiando ti stavi dedicando tanto allo studio comunque riuscivi a ricavare un buon momento quotidiano allo studio Joe tu invece con tutti gli impegni che hai lasciando stare questo momento che siete in televisione riesci a ancora a studiare a fare le tue cose e se vuoi aggiungere qualcosa sul pensiero di Lorenzo che penso che sia molto simile al tuo conoscendoti per me ogni giorno che puoi fare qualcosa che hai con la musica è una vittoria che puoi fare qualcosa che ha a fare con la musica è una vittoria quindi che sia ascoltare un disco io oggi ho fatto Ciclette e ascoltavo un live dell'88 di Steve Hunt che è un tasterista fantastico e c'era Jimmy Johnson al basso quindi volavo con l'immaginazione perché ho visto Jimmy Johnson l'ultima volta con Steve Gadd e quindi ero tutto contento perché dentro la mia testa c'era tutto un intrecciarsi di combinazioni poi il palco ho conosciuto Steve eravamo con Christian Meyer quindi con Yamaha quei giorni eravamo in giro morale della favola non ho mai tempo per studiare perché è veramente tanto tempo che non che non dedico due ore senza senza guardare il telefonino per rispondere o fare delle cose e studiare la batteria ma fortunatamente anche l'avere a che fare con tanta didattica e farla con Lorenzo abbiamo fatto tante registrazioni che finiranno in un corso basso batteria mi tiene occupato quindi sto comunque o suonando o mettendo la testa nella musica per cose che servono poi dopo per lavoro che poi è divertimento se lavoro anche 12 ore al giorno su cose del genere non mi pesa non mi pesa proprio quindi io tra l'altro Gio siccome lo posso dire l'ho già visto il vostro lavoro so già di cosa si tratta non vedo l'ora che sia fuori perché è una cosa veramente forte molto forte ma ne parleremo quando sarà ora perché se no spoilerare prima non va mai bene poi magari li fai fare altri 35 pezzi non si sa mai allora c'è una domanda di Luca cosa pensate della morte dei locali per fare musica live anche ovviamente pre-covid ormai da anni pian piano stanno scomparendo tornando al discorso gavetta siamo alla fine dei locali live tu Gio nella nostra intervista mi hai citato il Capolinea tu vivevi al Capolinea come tantissimi batteristi milanesi andavi là tutte le sere c'era qualche grande nome io Lorenzo vabbè Lorenzo è più grande di me però a Piacenza io quando ho cominciato a suonare c'erano tu potevi suonare mercoledì giovedì venerdì sabato domenica in tutti i locali della zona nessuno ti diceva niente nessuno ti chiedeva di portare gente nessuno ti diceva quanta gente porti a cielo cose di questo tipo vabbè lasciando stare il suo discorso ci sono ancora che voi sappiate i locali per andare a suonare a fare le jam session cose di questo tipo come la vedete Lorenzo tu come la vedi sono calati molto ne hanno chiusi sono chiusi molti ma secondo te è più dovuto al fatto che l'interesse scusa se ti interrompo secondo te è più dovuto al fatto che l'interesse per la musica o proprio la musica che si fruisce adesso alla radio è più elettronica programmata quindi magari c'è un po' meno il musicista e quindi è una ruota che gira se così vogliamo perché ho conosciuto anche gente che mi diceva che ci sono stati momenti dove i live non c'erano negli anni scorsi negli anni 80 e quindi per i batteristi c'erano le drum machine secondo te è una ruota che gira o bisogna preoccuparsi allora negli ultimi anni c'è stata più urgenza di farla la musica forse di che di fruirne questo sicuramente ha generato un cambiamento non bellissimo perché se la musica uno la vuole suonare ma ci vuole qualcuno che la ascolti se non viene ascoltata non viene condivisa quindi non si non si completa la funzione primaria della musica che è al pari di quella di fruirne cioè non è più importante farla rispetto ad ascoltarla e sono importanti alla pari solo che la televisione su cui punto un pochino il dito quel tipo di televisione ha illuso milioni di persone che tutti potevano diventare Tony Bennett o Madonna o Dua Lipa o Dine Uno cioè non è così non può essere così adesso è un po' crudele da dire solo che questa cosa di illudere è diventato è diventato oggetto di mercato quindi non c'è nulla di male nel sedurre qualcuno mettergli nella testa la fiammellina di diventare un modello il problema è che ci hanno lucrato su questo aspetto e quindi è questo che ha reso malsana la cosa perché ha portato sempre più indotto di quel tipo lì cioè del voler fare una lotteria del successo e non ha fatto bene non ha fatto bene perché purtroppo adesso non si parla di persone ma di generazioni almeno due per stare stretti almeno due che come progetto non hanno andiamo a sentire voglio andare a ascoltare un po' di musica e facciamo i provini vado all'audizione che va benissimo per carità però la conseguenza è stata che c'è meno urgenza di fruire di musica da parte di alcune generazioni ecco non tutti fortunatamente io credo che tutti quelli che sono qua voglio dire a guardare vabbè che siano belli però a guardare noi qualcuno chiede se siete gemelli addirittura qualcuno chiede se siete gemelli del gol no adesso GB è più in forma di me di parecchio fisicamente devo dire che non possiamo essere gemelli perché lui è molto più in forma di me posso girarti una domanda Gio che riguarda te proprio sto studiando Dottor Tello di Gigi Cifarelli come hai affrontato lo studio di quel brano sapendo che hai suonato con lui l'ho affrontato studiandolo proprio qua in studio quando avevo mi sembra 16 anni visto che quel brano lì è stato registrato molti molti anni fa mi ricordo che quello era un disco che passavo in rassegna nei miei cioè io suonavo sui dischi essenzialmente King Crimson Giacomo Pastorius Cicorea piuttosto che i Rush Pino Daniele Conca tutta la roba che mio padre aveva sul giro a dischi e stava là mio padre e io suonavo sui dischi quindi si toglieva si rimetteva e quella era la mia pratica e per collegarmi a alcune domande che ho letto come si fa a suonare con le persone che stimi come fai ad entrare nel giro in realtà è stato così per tutti anche in periodi in cui tu non suonavi non conoscivi nessuno per farti conoscere si studiava tanto i dischi studiavi i repertori a casa non aspettando che qualcuno ti chiami per poi dopo impararti i pezzi impararli sempre meglio durante le serate e sperando che poi ti richiamino il lavoro andava fatto prima ti studiavi 10-20 repertori della gente con cui volevi lavorare ti presentavi e loro ti dicevano no perché ho già due batteristi e al che quando uno si ammalava e non c'era neanche l'altro o c'era una combinazione favorevole tu avevi fatto i compiti a casa e magari avevi già conoscenza della musica che dovevi suonare facevi bella figura e da un lavoro ne entrava un altro e cose del genere per me è stato così molti si aspettano che qualcuno ti chiami a casa quando ti svegli la mattina ma non è per nulla così questo per rispondere alle domande che leggo come si fa è sempre stato difficile è sempre stato uguale anche in questo periodo storico che fa schifo ma io ti faccio un esempio se voglio suonare con Stefano Bollani l'ho fatto da poco tempo fa proprio questo esempio perché volevo conoscerlo e vedere di suonare con lui mi è toccato partecipare e arrivare tra i vincitori di un contest per pianisti suonando però la batteria su un suo pezzo che era molto molto veloce un'improvvisazione dove lui vedendosi arrivare questo materiale mi ha chiamato e l'ho visto poi allora cimbole ti abbiamo parlato ma ho dovuto trovare un metodo traverso perché lui non risponde in quel caso tu hai usato il modo che molti utilizzano oggi nella comunicazione dei social network per utilizzarli e riuscire a arrivare magari a farsi notare a farsi sentire a toccare delle corde vi faccio ancora 3-4 domande brucia pelo perché abbiamo già sforato l'ora non voglio andare troppo oltre avete già detto quante ore studiate ora cioè Joe tu mai Lorenzo tu non so adesso adesso credo zero siete sempre a fare della televisione però quando poi so che studi quanto avete studiato da ragazzi io lo so quanto avete studiato da ragazzi perché tu Lorenzo hai usato il termine farsi sanguinare le mani suonavo tutto il giorno suonavate tutto il giorno certo ma sì un po' suoni un po' studi un po' tiri giù dal disco non è che fosse tutto il giorno scale arpeggi anzi però sicuramente suonavo tutto il giorno cioè qua Marco Zanoni che è con voi quindi il nostro una delle colonne allora vi faccio questa ragazzi vedo un sacco di gente dice Piero sui social che fa cover eccomi io faccio i tutorial suono tutto nota per nota però non faccio i cavoli di è cioè solo esclusivamente pezzi di altri ma fare musica propria no cercare i propri suoni nemmeno certo che sì assolutamente anche poi dipende che mordente ha uno però sì il futuro è l'originalità quindi l'unico modo per avere un futuro è essere originali quindi Piero che saluto ha ragione piena però non tutti hanno questo fuoco sacro c'è chi ha così come pure c'è gente che ha una creatività pazzesca un'originalità pazzesca e delle volte deve rivolgersi magari a un un operaio della musica per realizzare certi certi dischi e non c'è nulla di male voglio dire i Beatles hanno cambiato il batterista perché gliene servivano più bravo quindi stiamo parlando dei Beatles eppure andava bene anche Pete Best quindi sicuramente l'unica possibilità di futuro che sappia io è l'originalità che possa poi ispirare anche generazioni che possa contaminare anche altre tipi di personalità musicali però ha ragionissimo per esempio Gio tu sei già un po' in questa modalità perché solitamente fai il tuo clip settimanale dove suoni un brano di un artista che ami ma lo suoni sempre a modo tuo quindi in un certo senso usi la cover per la tua creatività dico bene? sì diciamo che è un divertimento per sfogarmi un po' e tenermi un attimino in allenamento perché ora che imparo il pezzo se è un pezzo incasinato mi porta via magari che ne so 20 minuti per impararlo bene e poi altri 20 per registrarlo quindi passare quell'ora sulla batteria mi piace mi serve e mi tiene un po' su tecnicamente però per collegarmi alla domanda dell'essere di cercare un proprio timbro e magari se è possibile mettere giù della musica io ho fatto 13 dischi pubblicati e sono da tanto tempo che ho la testa in quella direzione specialmente imparo tantissimo dei musicisti che accettano di collaborare con i quali realizziamo questi prodotti quindi assolutamente sia la musica originale al fatto di fare il più possibile qualcosa di bello con la musica allora vi mando qualche messaggio flash Umberto Arauci consiglia un libro che ho letto anch'io bellissimo che si chiama il piccolo manuale del talento straconsigliato dovrei fare un libro un librettino così si legge in una sera bellissimo straconsigliato poi qualche domanda proprio flash c'è un ragazzo salvatore che chiede Joe vuole sapere che splash usi assolutamente diglielo che poi così è a posto vai sono tantissimi qua sono montati uno sopra l'altro comunque di base gli Avedis a custom da 6 ce ne sono di due tipi e le ho tutte e due poi là ce ne sono in fondo uno sopra l'altro uno da 10 uno da 8 si chiamano trash former sono ondulati sopra rivoltato un altro a custom da 6 e questa la chiamo la vendetta degli splash spesso basta l'hai detto l'hai detto fine domanda per Giovanni preferisci match grip o traditional grip match ok via ma il suono è nello strumento o nelle mani Lorenzo il suono è nelle mani la prova è il jazz bass che ha quello più estremo no Massimo ti mandiamo un abbraccio che ti spapoliamo intanto no ci sono di tutto e poi dicevo l'esempio più estremo è il jazz bass prendi Pastorius Marcus Miller o quelli della montagna cioè uno strumento che passa da un è lo stesso strumento è assurdo lo senti sembrano due orchestre diverse non due strumenti Gio tu lo dicevi prima più o meno parlando di Lorenzo proprio il fatto che all'inizio della diretta parlavi del fatto di come lui con lo stesso strumento riesce però a cambiare il suono nel modo in cui lo tocca lo strumento e tu immagini la stessa cosa quindi la pensi credo come lui dico bene io ho visto i più grandi batteristi del mondo suonare con strumenti allucinanti dei service però avevano il loro suono quindi diciamo che anche se questa cosa poi dopo incontra il dispiacere di costruttori di grandi strumenti anche soprattutto artigianali però secondo me il 20% è lo strumento l'80% se è te ultime due domande ragazzi scusami posso solo dire una cosa velocissima Dado volevo mandare un saluto e sottolineare solo il fatto che chi ha fatto questa domanda è Massimo Genchi e così approfitto per creare questa piccola connection con la domanda di prima assolutamente legittima riguardo all'originalità Massimo Genchi che è stato il titolare della Salumeria della Musica è una delle persone al mondo che più si è battuta per l'amore della musica perché si respirasse un rinnovamento e musica buona a prescindere dal genere ha fatto di tutto in quel locale è uno che si è battuto e se a Milano si è respirato e non solo a Milano perché veniva musicista da tutto il mondo un rinnovamento un'aria pulita di musica lo dobbiamo anche a Massimo che approfitto per ringraziare grande veramente allora questa è la penultima domanda in che cosa risiede secondo voi l'alchimia tra basso e batteria che domandona vediamo se mi riuscite a rispondere in pochi secondi dai no senza stress però se troviamo una sintesi per te Joe che cos'è l'alchimia tra basso e batteria volevo solo chiudere il discorso di prima ringrazio anch'io Genki per tutto quello che ha fatto per noi e non solo per noi tornando al discorso degli strumenti io sono felice se poi sono avvantaggiato da uno strumento grandioso naturalmente quell'80% deve partire dalla mia testa su come amministrare lo strumento nella musica chiuso il discorso strumento e tra basso e batteria cos'è che era come si fa? c'è che definiresti l'alchimia tra basso e batteria ma non pensarci al basso e batteria pensa a quello che sta suonando secondo me al brano che devi affrontare se hai un riferimento bene se no tutto ciò che favorisce il brano lo tenti e poi insomma con l'esperienza trovi la quadra men che non si dica però sicuramente non pensare adesso faccio questo ora faccio quello ora lasciarsi un attimo andare anzi ve ne faccio altre due domande la sezione ritmica che avete come riferimento quella che non dico che vi che avete ascoltato di più non dico quella che vi piace di più perché vi piace vi piacere in un momento una sezione ritmica in un altro momento un'altra ci mancherebbe però se pensate a quella a cui siete più affezionati ce l'avete una una volta sì forse magari adesso qualunque sezione ritmica che sento girare bene magari senza neanche sapere i nomi cioè godo quando una sezione ritmica gira bene prima magari guardavo di più il nome adesso magari non voglio neanche saperlo cioè quando gira bene che goduria è che è una domanda difficile perché ascolto da tanto tempo musica che non prevede neanche l'utilizzo di una sezione ritmica canonica come inteso moderna a bassa batteria come la musica di Stravinsky o John Williams o altre cose che in macchina o se ascolto Herbie Hancock puoi sentire magari Ron Carter e Tony Williams che fanno il groove tra virgolette pensato in una maniera diversa da come lo fanno con Miles Davis però non è un riferimento pop o funk o magari ci sono dei supereroi degli anni 70 come i dischi di André Ceccarelli uno dei miei battisti preferiti dove bassista il bassista suonava in sedicesimi continuamente e lui cercava degli incastri eroici ma non era un classico groove piazzato quindi non saprei risponderti perché va come dice Lorenzo dal periodo e dal momento allora ultima domanda ce ne sono state diverse scritte anche in maniera molto simpatica mi piacerebbe sapere un artista con cui vi piacerebbe veramente suonare e registrare e c'era uno che diceva vivo morto non so c'era una espressione molto bella quindi anche qualcuno che non c'è più qualcuno con cui vi sarebbe piaciuto suonare questo uno me lo dovete dire però vai Lorenzo vai parti tu aiuto aiuto mi piacerebbe essere uno secco stare una settimana come bassista della Motown ecco bassista della Motown per una settimana ecco ok e quindi facevi 40 dischi in una settimana sì mi piacerebbe in quello studietto lì con tutti quegli artisti vederli arrivare boom 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 Joe? quella scuola lì mi sarebbe tanto piaciuto in ordine sparso mi sarebbe tanto piaciuto suonare uno 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 quando ti ho fatto la domanda del rullante uno solo me ne devi dire dai uno solo veramente sì eh non so allora il primo che mi è venuto in mente per affezione è un chiedarrista Alan Osworth e io ho avuto il suo numero sul telefono e non ho mai cercato il contatto anche se si poteva riuscire a fare qualcosa però per anni ho sempre pensato di non essere in grado quindi non ho mai approfondito grande ragazzi ci sono centomila domande che io non sono neanche riuscito a leggere completamente ci sono un sacco di complimenti insomma il video è andato in contemporanea sia su youtube che su facebook io vi consiglio poi di andarmi magari a vedere i messaggi vi invito se potete a farvene una voi di diretta magari insieme o separatamente sui vostri social perché mi spiace mancare di rispetto a tutti quelli che hanno fatto domande ma chiaramente dovremmo fare tredici ore di diretta molto volentieri quindi se lo fate fatemelo sapere che la voglio condividere anch'io vi guardiamo in televisione ragazzi vi guardiamo in televisione io vi ringrazio tantissimo adesso andiamo grazie a te andiamo a berci un bel bicchiere di rosso e ringrazio tutti quanti tutti quelli che sono rimasti con noi ok grazie a tutti davvero a te Dado in primis che sei veramente oltre a un grande batterista sei veramente un guerriero della positività yeah sempre up e questo aiuta tutti sempre bene quindi grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti con le domande che fa piacere fa sentire c'è sempre da dire ragazzi c'è sempre da dire un abbraccio a tutti grazie grazie a tutti ciao ciao ragazzi ciao ciao